musica 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 lo sai non c'ho bisogno no io non ci riesco tanto io non so adesso cosa ci fa a testa mia senti all'angolo ma direi che c'è stata Gino e Mario io ti con di testa allora ho visto tutti quei funghi porcini ho detto a me musica 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 Ok E' una ripresa Mario, Mario è una ripresa Mario è più bello, lui è più bello, un valere, un simbatico non c'è lo zoom, quindi mi devo avvicinare per zoomarte eh oh zoom, zoom, zoom non c'è una ma io voglio vincere di te niente, voglio vincere l'importante vincere se sta riprende, ruffiamo un figurone, se corsa i vendanti ma io c'è un figurone, ma non va a mentirio il video vai su youtube, non va a metterlo su facebook Voto e riprende 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. e a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti.